Buonasera da TG Flash Economia, ecco in pillole le novità economiche della settimana. Quanto vintage nei nostri armadi e cassetti tra abiti e accessori e Cast Distribution lo fa con gli orologi. Con Casio Vintage ha recuperato storici modelli del famoso marchio, anni 80, modificandoli e ringiovanendoli con cinturini nuovi di tessuto o metallo colorato. E ancora, ha scovato nel passato i cinturini militari nato, tornando indietro fino agli anni 50. La qualità e il valore di oggetti vecchi che oggi diventano di gran moda e di vero culto. Artigiani del bel vestire italiano, Gallia Confezioni produce camicia e uomo da più di 50 anni, lavoro e passione insieme. Questa azienda punta tutta la sua produzione sui tessuti esclusivi, con l'unico obiettivo di soddisfare la voglia di unicità di ogni uomo, rispettandone la confortevolezza e la sua personale eleganza. Camice per l'uomo fashion, formale, più sportivo, tutte alle insegne del Made in Italy, vero valore assoluto di Confezioni Gallia. Seattle, con sede a Forlì, è distributore italiano di Filson, abiti e accessori disegnati e realizzati per la vita all'aria aperta, e quindi resistenti, comodi di gran qualità e tecnicità. Dall'America arrivano i tessuti più pregiati in lana McNo, dell'antica azienda di Seattle, lavorati e finiti con vestibilità italiana e un design funzionale. Non solo indumenti, Filson e anche borse, accessori, bottoni, etichette, tutti i dettagli che danno ai capi un sapore di selvaggio. Stesso discorso di qualità di tessuti, eccellenza di lavorazione e ottima resistenza, vale per un altro storico marchio portato da Seattle, Penfield. Marchio americano con progettazione a Londra, Penfield è nato nel 1975 e da allora veste i più giovani con lo stile comodo e libero delle passeggiate e dello sport all'aria aperta. Piumini con inserti in tessuto, pelle, giacconi con colli di pelliccia. Di nascita americano, Penfield ha il fascino dei giovani londinesi. Dal 1933 Achille Pinto è presente nel mercato del tessile italiano internazionale. La sua storia fa sì che questa azienda sia punto di riferimento per le produzioni di capi e accessori moda. La collezione Pierre-Louis Machin è caratterizzata da un concept innovativo e trasversale, accessori e capi unisex da indossare come un accessorio e accessori e complementi d'arredo. Questa linea si dedica anche alla maglieria, quella stampata, e ancora tessuti per cravate, borse e ombrelli. Qualche anno fa Achille Pinto ha rilevato la Franco Ferrari di Como, piccolo gioiello di produzione artigianale per accessori uomo-donna e unisex in seta d'impronta couture. Sharpe, stole, scialli, realizzate con i migliori tessuti naturali, seta, lana, lino. Ogni prodotto viene interamente progettato e creato all'interno dell'azienda da un gruppo di stilisti affiancati dallo staff tecnico. Possibilità di realizzare articoli su richiesta per un risultato esclusivo e personalizzato.